bene dopo essersi scatenati al ritmo di Antonello tanta energia è il momento della canzone qui al villaggio chiamiamo il nostro cantante il nostro cantante del villaggio il nostro amico Francesco Liguori quello che è piano bar sì che oggi dedicherà questa canzone al nostro amico Roberto Ferrari si è preso la briga di scrivere la canzone ma anche no vai Francesco come fai come fai con la faccia che c'hai poverissimo e parla per te bello come fai quando esci la sera sei pericolosissimo perché in che senso non ho capito sembri un camion urtato da un treno voglio vedere te bello ha parlato tono sembri un equilibrista caduto da un filo altissimo mannaggia 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 che video bruttissimi e nesimo appuntamento con il due aspetto che sei il nostro siglaio di c'hai sempre un errore cada uno ma non è vero meno male che non riguarda nessuno non riguarda nessuno così hai tempo di farli un po' meglio mettici tantissimo va bene un anno più o meno dai va bene diti sempre che hai fatto il forcone ma poi è falsissimo cosa ho fatto non ho capito se tu tocchi il sedere a una donna si becchi un calcissimo a volte no ma sei tirato quei soldi e invece di più tu regali solo i portafiori acquistati al discount e pagati un prezzo bassissimo non è vero che sono cecchio facciamo un applauso al nostro Francesco Siguori e un saluto da Antonello tanta energia tutti dicono che sei un po' tonto che sei scritto su in fronte giocomodo ma non è mica vero o almeno non lo pensiamo tantissimo io ti chiedo perdono se a volte ti sfotto ma lo faccio perché sei la spalla del mio amico carissimo sai io non c'ho tanti argomenti vari faccio solo canzoni a Ferrari che speriamo non muoia e rimanga un DJ che sei brutissimo Shibiduak Shibiduak